salve a tutti amici siete sul canale resic strategic e oggi vi vorrei parlare di un argomento molto interessante secondo me ovvero quali sono i bonus in combattimento e sì perché non lo sapesse ci sono tantissimi modi per ottenere un attacco maggiore rispetto a quello base dell'unità infatti l'attacco base è contrassegnato dalla forza militare che viene contrassegnata dall'unità stessa nel caso del nostro guerriero è 20 nel caso del guerriero a cavallo è 36 ma questo non significa che ogni volta che noi andremo ad attaccare un'altra unità attaccheremo sempre con quel valore di attacco lì un esempio concreto in questo caso come vedete noi stiamo attaccando con 25 d'attacco e qui invece stiamo attaccando con 35 ovviamente tutti i bonus che ogni unità riceve li potrete vedere sulla destra delle ciascune unità infatti se guarderete sullo schermo in basso in basso a destra compariranno le due forze militari messe a confronto e sulle destre ci sarà scritto tutti i bonus che queste unità ottengono quali sono i bonus da tenere in considerazione beh sono davvero davvero tantissimi non saprei nemmeno da dove iniziare innanzitutto visto che siamo qui un guerriero contro un lanciare direi giusto di partire a parlare della forza militare che un'unità ottiene combattendo contro un'unità che è sfavorevole contro essa proprio in questo caso abbiamo i guerrieri ovvero forze d'attacco ravvicinato che hanno un bonus di più 10 d'attacco appunto contro i lanciari che non sono soltanto i lanciari dell'epoca classica ma sono anche tutte le unità di questa categoria quindi stiamo anche parlando dei bicchieri in futuro dei terzi eccetera eccetera un altro bonus fondamentale da tenere conto è la tipologia di terreno su cui ci troviamo infatti se voi guarderete mentre io sto puntando sul guerriero a cavallo questo ha sulla lo potrete vedere sulla sinistra della descrizione di questo guerriero a cavallo ha più 3 per terreno ideale che cosa significa questo cavallo si trova come vedete su una collina una collina come la foresta aggiunge più 3 di attacco poi c'è anche il fattore della difesa fortificata questo che cosa significa questo significa che quel guerriero per ogni turno che passa in fortificazione riceverà un ulteriore bonus di più 2 alla difesa fortificata fino ad un massimo di 6 come vedete un altro fattore è il bonus di supporto ovvero se noi stiamo attaccando unità e questa ha qualche unità alleata vicina questa unità riceverà più 2 di bonus supporto per ciascuna unità che sta vicino ad essa facciamo un esempio un pochino più concreto attaccheremo questo guerriero a cavallo e come vedrete il bonus di supporto non è più di 2 ma è di 6 in quanto ha 1 2 e 3 unità alleate vicine un altro modo per alzare il nostro valore di attacco è invece accerchiare le unità che è un po' l'inverso di ciò che succede quando noi attacchiamo un'unità difesa dalle altre unità alleate quindi accerchiando un'unità noi andiamo ad aumentare il nostro bonus per l'accerchiamento infatti se voi vedrete sotto a destra sulla descrizione del mio varu vedrete un più 8 di bonus per l'accerchiamento questo in quanto a parte la mia unità attaccante ce ne sono altre 1 2 3 e 4 che la supportano 4 per 2 diventa più 8 un altro fattore molto importante da considerare è che ci sono delle carte particolari ovvero quando voi entrate nell'epoca buia fino al rinascimento compreso vi si sbloccherà questa carta dell'eroismo disperato che aggiunge un più 5 di forze di combattimento a tutte le unità da mischia questo vuol dire non solo le unità da mischia come il guerriero e la sua categoria ma anche lanceri oppure cavalieri infatti come vedrete il mio varu sulla destra ha un più 5 la forza di combattimento per tutte le unità da mischia un altro modo per ottenere il bonus di attacco è quello di sbloccare la politica anzi il governo oligarchia in questo caso lo possiamo vedere sul nostro avversario infatti se voi guarderete i francesi hanno sbloccato l'oligarchia l'hanno adottata come proprio governo e hanno aumentato il valore di attacco delle loro unità da unità da mischia in questo caso però esclusi i cavalieri quindi esclusi tutte le unità sia di cavalleria pesante sia di cavalleria leggera hanno aumentato il loro attacco di 4 proprio grazie a questo governo un altro modo per aumentare le proprie difese è quello di mettersi dietro al fiume infatti come vedrete se io volessi attaccare con questo guerriero il l'arciere che sta dietro al fiume avrei e questo arciere avrà un più 5 da difesa dal fiume lo potrete vedere nella descrizione di questo di questo arciere inoltre avrete notato sicuramente comandante guarnigione tra i bonus dell'arciere questo per il fatto che il nostro nemico ha preso all'interno della sua città questo governatore victor e gli ha dato la seconda promozione che è capo guarnigione e come vedrete le unità che si difendono all'interno del territorio della città ottengono più 5 alla forza di atto di combattimento dunque in questo modo ha aumentato il potere di tutte le unità che si trovano all'interno delle caselle della propria città come vi dicevo prima non solo le colline danno un bonus di difesa ma lo sono anche le giungle infatti se io vado a puntare con questo guerriero a cavallo contro il guerriero che sta sulla collina con le giungle questo guerriero ha ben più 6 per terreno ideale infatti come dicevamo prima più 3 si ottiene sulle colline e più 3 si ottiene sulle foreste oppure giungle dunque un più 6 più un più 6 per la per la difesa fortificata e insomma arriva a più 12 già di suo più aggiungiamogli un bel più 4 dell'oligarchia e se siete stati attenti ai conti avrete notato che arriverebbe in realtà 36 bene siamo siamo arrivati dunque ad uno degli aspetti più carini più simpatici secondo me ovvero la visibilità che cosa questo significa se voi andrete hanno ad aprire il vostro il vostro nemico vedrete che qui c'è il livello di accesso nessuna questo perché non abbiamo alcun livello di visibilità nei confronti del nostro avversario livello di visibilità lo potrete vedere ovviamente all'interno della civilopedia come si può alzare in breve vi posso dire che nel momento in cui stabilite una rotta commerciale e questa giunge al termine si crea una base commerciale all'interno della città di destinazione dunque se la spedite verso le città dei vostri avversari creerete le basi commerciali queste aiutano a aumentare di uno la visibilità la visibilità nei confronti del vostro avversario quindi aumentare l'intel dell'intelligence per ogni livello di visibilità in più voi riceverete un più 3 di attacco infatti caterina de medici grazie al suo diciamo potere speciale da da leader ha un livello di visibilità in più verso tutti gli altri giocatori di conseguenza tutte le sue unità hanno più 3 di bonus d'attacco contro tutti gli altri giocatori un altro modo per aumentare il livello di visibilità è quello di scoprire la tecnologia tipografia come vedete fornisce un livello in più di visibilità diplomatica nei confronti di tutte le altre civiltà e un ultimo modo per aumentare notevolmente la visibilità è quello di giocarci con le spie ovviamente noi attualmente siamo un po' indietro con l'età però nel momento in cui avrete le spie potrete mandarle all'interno della città del vostro avversario e dirgli di iniziare a raccogliere informazione dell'intelligence che aumenta per appunto di uno la visibilità nei confronti del vostro avversario un'altra cosa sicuramente da tener conto sono le abilità dei vostri leader ad esempio chandragupta come gandhi essendo una civiltà dell'india sblocca un'unità particolare come il varo e il varo se guarderete ora nella sua descrizione dice che dà meno 5 di forze di combattimento delle unità nemiche adiacenti purtroppo dopo l'ultimo dlc il bonus malos che ottengono i nostri nemici non si somma più però comunque un meno 5 è sempre una cosa molto simpatica infatti vedrete che l'arciere oltre ai bonus ha anche un meno 5 d'attacco appunto per la presenza per la vicinanza del varo tenete conto anche aspetti dei leader come mappuce che ottiene un più 10 di attacco contro civiltà che si trovano nell'epoca d'oro oppure tenete soprattutto in grande considerazioni civiltà come la mongolia che non ottiene un semplice più 3 come la francia per ogni livello di visibilità ma ne ottiene ben 6 e mandando una rotta commerciale sarà raddoppiato in quanto la base commerciale che viene stabilita all'interno della città nemica per la mongolia da ben due livelli di visibilità quindi un più 12 di attacco è molto molto sgradevole molto spiacevole soprattutto visto che siamo all'inizio della partita un ultimo ovviamente aspetto da considerare è la presenza di un generale infatti voi avete la possibilità tra i grandi personaggi di ottenere i grandi generali questi per ottenerli si possono ottenere in due modi attraverso la carta strategos in futuro un'altra carta che aggiunge più 4 punti grande generale però non la utilizzerai molto spesso in quanto soprattutto se giocate contro il pc ma anche a volte se giocate contro i giocatori un po' più esperti farete molta fatica ad raggiungere il punteggio necessario per ottenere questi grandi personaggi prima che se li pappano gli altri quindi vi consiglio di costruire l'accampamento viene sbloccato tramite la tecnologia lavorazione del bronzo una volta che l'avrete costruito avrete un più un punto al grande generale al turno inoltre per ogni costruzione avrete ulteriori punti ma soprattutto potrete fare il progetto addestramento dell'accampamento che al termine quindi nel momento in cui lo andrete a concludere vi darà una buona parte di punti che solitamente all'inizio della partita varia tra i 15 e i 20 nelle prime appunto epoche dunque come abbiamo detto se noi avvicineremo il nostro generale non basta purtroppo averlo in quanto questi hanno epoche su cui sono attivi ovvero in questo caso il generale da più 5 alla forza di combattimento e più 1 al movimento alle unità terrestri di epoca classica e medievale solitamente i generali sono 3 per... sono 6 per ogni epoca tranne la prima infatti nella prima noi abbiamo il generale che funziona sia sulle unità di epoca classica che quelle medievale classica sono unità successive all'epoca antica dunque cominciano da qui quindi sui spadaccini, guerrieri a cavallo, catapulte non unità navali in quanto queste hanno i grandi ammirali dunque come abbiamo detto arciere è un'unità dell'epoca antica quindi non riceve il bonus di più 5 dal grande generale lo potete controllare qui mentre il guerriero a cavallo che è già un'unità dell'epoca classica riceverà il più 5 d'attacco dalla presenza del grande generale lo potete osservare proprio in questo momento nella sua descrizione in basso a destra quindi considerate sempre molto attentamente i bonus di difesa i bonus d'attacco che potete avere voi o che possono avere i vostri avversari prima di decidere di dichiarare guerra perché non sempre avere le unità dell'epoca diciamo più avanti rispetto a quello del nostro avversario non è sempre sufficiente per poter sfondare le difese e non sempre essere indietro nelle tecnologie significa essere perdente in quanto se si è bravi a sfruttare tutti questi bonus di difesa tra difesa fortificata, tra difesa del territorio, tra difesa del fiume tra difesa di victor, generali, intel sicuramente si riesce a mantenere anche forze di due epoche passate questo ve lo posso garantire in quanto mi è già successo in partite online l'ultimo ma non meno importante aspetto da considerare per aumentare l'attacco delle nostre unità sono i corpi e gli eserciti questi vengono sbloccati rispettivamente i corpi nel nazionalismo che permette di unire due unità dello stesso tipo tra di loro per formare un'unità più forte di 10 punti di attacco e successivamente con la mobilitazione sbloccheremo l'esercito che permette di unire questa volta tre unità rispetto a un corpo non riceve più un ulteriore più 10 ma riceve più 7 però alla fine avere un più 17 di attacco su un'unità base è comunque un bonus direi non da poco e molto piacevole se avete domande fatemele, scrivetemele nei commenti cercherò di rispondere il prima possibile io spero che questo video vi sia stato utile per avere qualche idea più chiara sulle tecniche di combattimento niente, ci vediamo nel prossimo video ciao